Buongiorno a tutti, rieccoci per il nostro aggiornamento settimanale. Io direi di partire con la questione Covid, direi che stiamo andando bene. E' come settimana scorsa la situazione stazionaria, anzi non abbiamo avuto nuove persone positive, ci sono alcuni guariti in più, pochi, piano piano, perché come si tende a vedere non è così poi facile. Che al test si ritorni a essere negativi a breve termine. Però diciamo che la situazione è in netto miglioramento, soprattutto se la leggiamo 3-4 settimane fa, dove c'era un incremento non da poco, diciamo che le cose stanno andando bene. Quindi adesso stiamo riprendendo un po' tutti, stiamo attenti, mascherina sempre, comportiamoci bene. Quindi io su questo sono ottimista, speriamo che le cose funzionino bene per tutti, ma direi proprio di sì, se rispettiamo le regole ce la facciamo. Mi sono segnato alcuni punti da affrontare a proposito. Distribuzione mascherine. Non l'abbiamo fatta settimana scorsa perché ci hanno rinviato la consegna delle mascherine da parte di provincia che ci arriveranno dopo domani. Quindi sentita poi la protezione civile per gli impegni che ha giornalmente tra medici, piattaforma ecologica e corsi vari, la faremo sabato mattina. Quindi poi metteremo l'avviso ufficiale sul sito, ma sabato mattina faremo una nuova distribuzione delle mascherine. Il cimitero, come avete visto, come avete sentito, anche immagino, il da domani riapre il cimitero. Quindi riapre normalmente con gli orari di apertura di questi periodi soliti. Poi li vedete anche sul sito. Anche qui mi raccomando, io fino a, siamo stati in uno degli ultimi comuni a chiudere il cimitero, non ho mai, nessuno di noi ha mai notato nessun particolare assembramento al cimitero. Stiamo attenti, mettiamo sempre le mascherine. Come al solito, ognuno entra al proprio spazio, sistema quello che deve sistemare. Se ci comportiamo bene, anche qui è un servizio che può rimanere aperto e va bene per tutti. Ecco, immagino che ci sia magari un po' di folla, tra virgolette, in più i primi giorni, perché tutti arriveranno per pulire, sistemare. Cerchiamo di fare tutte le cose un po' con calma, insomma. Parchi gioco, parchi gioco per adesso li lasciamo ancora chiusi, perché comunque il DPCM ha confermato, come dicevo già la scorsa volta, che è possibile aprire i parchi, ma i giochi non si possono utilizzare. Ora, avessimo avuto un parco aperto, non recitato, come grosse città, aveva anche un senso. Per adesso direi di no, nel senso che se anche apriamo i parchi, però la gente non può utilizzare i giochi, quindi dovremmo delimitare tutti i giochi. Con un'area alla fine non si può utilizzare praticamente nulla. Quindi direi che per adesso vi lascerò ancora alcuni giochi non chiusi. Piattaforma ecologica, questa settimana funzionerà ancora con gli orari di settimana scorsa solo per il conferimento del verde. Ho fatto richiesta all'amministrazione comunale di Cassago per verificare la possibile apertura anche per gli ingombranti. Ci si sta organizzando, vi saprò dire fine settimana, se riusciamo per settimana prossima a riaprirla per gli ingombranti, magari anche qui dividendo gli accessi in ordine alfabetico. Già anche accennavo invece per quanto riguarda i buoni spese settimana scorsa, come la situazione, adesso siamo fermi con la distribuzione di buoni spese fino a 10-15 di maggio. Nel frattempo sono arrivate nuove domande che saranno poi vagliate unicamente a quelle che erano, come vi dicevo, borderline, quindi probabilmente il mese di maggio qualcosina dovremmo rilasciare come noi buoni spesa, però per adesso la situazione è ferma e la riprenderemo in mano tra una decina di giorni. Il mercato, come avete visto, siamo riusciti a riaprire il mercato quantomeno per quanto riguarda gli alimentari, visto che la regione Lombardia ci ha dato la possibilità. L'abbiamo riaperta, vedi, al discorso il primo maggio, c'era una bella fila, sono andato anch'io al mercato e mi aspettavo un po' meno gente. Probabilmente era anche in concomitanza col fatto che il supermercato era chiuso e quindi un giorno di festa, però diciamo che questa fila si è anche creata perché le disposizioni di regione Lombardia erano abbastanza stringenti, quindi abbiamo dovuto creare un percorso stabilito con un ingresso, un'uscita, con la protezione civile che doveva fare tutti i controlli. L'ordinanza prevede questa modalità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinanza abbiamo riaperto il mercato che rimarrà aperto anche da qui in avanti. Sperando che poi nelle prossime settimane si possa riaprire anche agli altri espositori. Un altro punto, sono ripartiti i cantieri e quindi da oggi sono ripartiti i lavori per la realizzazione del nuovo municipio. Anche questi lavori sono rimasti fermi un mesetto, da oggi finalmente sono ripartiti. Ecco, speriamo che adesso riprendano ma non si debbano più fermare per altre problematiche. Già accennavo pulizia delle strade, l'abbiamo fatta per metà, fino adesso abbiamo diserbato, quindi da questa settimana potremo immagino riutilizzare la macchina per la pulizia delle strade. Non so ancora il soffiatore come potremo riutilizzarlo, però immagino che da questa settimana riusciremo anche a riprendere questo servizio in modo tale che si possa un po' ristabilire quello che è la normale attività, la normale pulizia che veniva fatta nel tempo. Un ultimo punto, dovevo aggiornarvi sulla questione Madre Teresa. Ero speranzoso di aprire già la settimana scorsa, non personalmente, ma insieme alla parrocchia. Aspettiamo ancora però l'ok definitivo da parte di provincia, che però è, come dicevo l'altra volta, vincolato all'ok definitivo da parte di Protezione Civile Nazionale, che deve dare benestare. Ci dicono che arriverà sempre a giorni, stiamo attendendo a giorni appena ci sarà l'ok definitivo, quindi partiremo anche con questo servizio. Credo di aver toccato un po' a tutti i punti che dovevo comunicarvi. A questo punto vi saluto e ci aggiorniamo alla prossima occasione. Arrivederci.